Il pittore Tato Tra le opere esposte alcune risalgono al periodo futurista, che vide Tato in prima fila più che mai battagliero, altre i paesaggi e le figure appartengono invece all'epoca della maturità. Dalla Pamona delle Antille si passa al bambino con pallottoliere, ai cantanti girovaghi, un olio del 1956, a caratteristici studi di personaggi, a spiritose nature morte. A composizioni che ricordano l'epoca della sua sfrenata scapigliatura. E si giunge al più recente periodo all'arte sacra, che ci mostra un tato pittore e ceramista, autore di opere semplici, popolari e al tempo stesso hieratiche. Opere che riecheggiano l'ingenua ispirazione dei primitivi e hanno una loro intima forza, una toccante bellezza.